Musica Siamo qui davanti alla sede della Borsa Italiana dove si sta svolgendo Reitaly che è diventato ormai il punto di riferimento al mercato immobiliare italiano. Sono quasi 500 i presenti tutti addetti ai lavori che si stanno confrontando sui temi caldi del real estate italiano. Reitaly è l'occasione per fare il punto sull'evoluzione del mercato immobiliare. Che idea si è fatto? Qual è il clima che si respira? Oggi è stata una giornata molto importante perché al di là dei vari interventi è uscita chiara un obiettivo. La comunità dell'immobiliare ha bisogno di fare rete, ha bisogno di non essere divisa tra proprietà, distribuzione, banche e fondi immobiliari ma c'è bisogno in questo momento di un'unità di intenti proprio perché il momento è difficile. Dal 2011 il governo Monti ha praticamente distrutto un settore. Si riferisce all'aumento della tassazione immagino. La tassazione certamente. Quindi sappiamo benissimo che il mercato se non è un mercato redditizio non può crescere. E oggi dobbiamo affrontare questo grande nodo che è poi un nodo che va risolto guardando anche in maniera più ampia il settore europeo, le politiche europee sulla casa e tante altre cose. Abbiamo parlato delle possibilità che abbiamo anche come osservatorio parlamentare. Il senatore Gibino ha illustrato quelli che sono gli emendamenti che verranno presentati adesso nel Miro e le Proroghe. Siete soddisfatti come operatori di mercato? Siamo soddisfatti per quanto riguarda se venissero accorti questi emendamenti ma ripeto sono pannicelli caldi di fronte a uno shock fiscale che ci vuole sull'immobiliare. Questa è la grande richiesta. Comprendiamo che in questo momento il governo deve affrontare altri problemi che sono quelli dei 20 miliardi del salvabanche e dei 40 miliardi che sono stati posti come clausole di garanzia nell'ultima legge di stabilità proditoriamente varata in un giorno a causa delle dimissioni di Renzi. Per quanto riguarda invece gli agenti immobiliari abbiamo richiamato, abbiamo illustrato quelle che sono le nostre iniziative e abbiamo richiamato anche la filiera, i vari componenti della filiera a una maggiore professionalità. L'ho detto chiaramente, in questo paese se ognuno facesse bene il proprio lavoro senza voler fare quello degli altri naturalmente il paese si andrebbe molto meglio. E così un richiamo anche alle banche che hanno aperto reti di agenzie immobiliari e poi casomai hanno bisogno qualcuno di avere i fondi di noi cittadini per salvare le banche. Allora è un richiamo forte questo perché stiamo notando che raccolta impiego per alcune banche, ripeto noi dobbiamo salvaguardare il nostro sistema bancario che è importantissimo, però per alcune banche che casomai poi richiedono gli aiuti di Stato sembra quasi più importante prendere il posto delle imprese che invece dovrebbero finanziare. Noi diciamo no, diciamo fortemente no e diciamo anche che con il salvabanche e con l'introduzione del bail-in se queste banche riceveranno aiuti di Stato, cioè soldi di noi imprenditori, di noi cittadini, deve essere assolutamente vietato, così come ha fatto il Senato americano nel 2009, la possibilità di fare impresa commerciale. Le banche tornino a fare le banche, raccolta impiego è molto importante per il bene dell'economia e noi agenti immobiliari abbiamo il compito di professionalizzarci sempre di più e di collaborare nella distribuzione di un prodotto che è quello casa che deve, ripeto, essere valorizzato e tornare redditivo.